eh signori e signori abbiamo il nostro peppozzo che ha detto che ai 2500 iscritti farà una cosa sentiamo mi farà i capelli rosa insieme a federico dimaggio 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 non sono io io non me li faccio rosa anche lui se non troviamo altri no io sai come li farai fare a di ma si viola o viola o anche chiamato kick pizza sulla play se quello del balletto ma non è che faranno come quei ragazzi ragazzo david ciao che ha detto il mio canale a 50 iscritti che lo ricordate che ha detto me li faccio rosa nel faccio rosa e poi non se ne fa poi a 100 iscritti cosa facciamo di fare ciuffa rosa ragazzi voglio arrivare sempre scritto questo ragazzo di cliccare per favore per favore lo voglio avere anch'io ora se facciamo velocemente prima di fine estate riusciamo arrivare al centro e lui fa un bel ciuffo rosa e questo lo faccio lo faccio dire altrimenti se ci arriviamo un po' in ritardo lo telefono durante l'inverno bello è arrivato a centro vieni tu con il rosa davide ce lo promette con il suo onore ciuffo rosa a 100 iscritti doppia promessa anche se è in bagno no no mantieni li costringiamo a botte mi conosci da dieci anni ok l'acqua è la promessa poi mano 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 questa vale anche per federico ok tagliato allora ragazzi al 2005 faranno il video e ce lo invieranno il problema è come lo fanno che uno è di prato e l'altro è di prato dopo mi si schiarizza poi resti biondo eh sì con il rosa il rosa comunque si toglie vai andiamo a fare il bagno cosa sai fare se mi è ritardato il bambino con i problemi cos'è sta roba è